Ciao ragazzi, oggi facciamo i French Toast! Sbatti insieme un uovo, un goccio di latte, un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale, poi aggiungi anche un po' di cannella. In una padella fai sciogliere un po' di burro a fiamma molto bassa, poi bagna le fette di pan brioche vecchie di qualche giorno nell'uovo e mettili a dorare in padella da entrambi i lati. Impiattale con una nocetta di burro e aggiungi un po' di miele o di sciroppo d'acero. E buon appetito!